Ed eccoci di nuovo qua su Fumetterino Nere e questo sarà un video interamente dedicato alle letture che ho fatto durante gennaio 2022. Partirei subito col dirvi che non vi parlerò di Coconino, anche se buona parte delle letture che ho fatto sono di opere pubblicate in Italia da Coconino. Non vi dirò quali sono perché saranno le protagoniste della prossima puntata del podcast che spero di far uscire durante il mese di febbraio. Bene, fatta questa parentesi passiamo invece a Ikari. Per Ikari ho letto Gannibal 2. Eccoci qua. Questa serie in 13 volumi pubblicata in Giappone a partire dal 2018 da Nihon Bugeisha su Mangagoraku è un seinen e il secondo quindi di 13 volumi per ora Ikari sta mantenendo una cadenza decente. Questo secondo numero però mi ha abbastanza deluso. Infatti vi ho parlato nel precedente video letture del primo numero che invece era stata una lettura sia intrattenente sia interessante, intrigante. Aveva tutti gli elementi secondo me perfetti per essere una buona lettura dei prossimi mesi e invece questo secondo numero mi ha un po' deluso. Questo non preclude niente, cioè penso proprio che andrò avanti con il recupero di questa serie perché la ritengo comunque positiva ma siamo su un piano totalmente diverso rispetto alle speranze che avevo dopo aver letto il primo volume. Anche se già avevo molti dubbi sin dal principio a priori. Allora purtroppo in questo secondo numero si è persa un po' quella magia dell'uomo solo contro tutti quanti. Era molto affascinante questa cosa perché senza dover porre l'accento su alcune tematiche o su alcune scene abbastanza truculente si creava comunque una certa tensione, una certa ansia proprio perché il protagonista era da solo in mezzo a una comunità abbastanza ostile. E in più doveva anche aiutare e salvaguardare la famiglia, quindi la figlia e anche la moglie. Questa cosa era un punto di forza nel primo numero mentre in questo secondo è andata un po' scemando. In questo secondo numero riusciamo quindi a collocare il protagonista all'interno di una rete sociale con altre conoscenze, un collegamento soprattutto con il mondo esterno oltre questo paesino che ospita Gannibal, questa storia. E metterlo all'interno di un contesto che non è più quello a un gusto del paesino, secondo me fa calare un po' la tensione. Inoltre la cosa che più mi ha scioccato è il cambiamento di questo protagonista, cioè la sua caratterizzazione. Sembra veramente che il protagonista che troviamo qui dentro nel secondo volume non abbia nulla a che vedere col protagonista del primo volume. Perché? Perché nel secondo riusciamo a capire come mai questo poliziotto è finito in questo luogo. Perché hanno scelto lui e non qualcun altro? Ecco, capiamo determinate cose del suo passato, ci vengono raccontate e devo dire che, insomma, a parte il fatto che forse sono poco credibili, ma poi soprattutto è veramente, sembra un'altra persona rispetto a quello che abbiamo letto nel primo volume e questo non mi piace. Ed è un difetto, io lo chiamo un difetto, almeno per me lo è, che riscontro in tanti manga. Cioè, pur di dare una svolta alla trama, un personaggio non si comporta più in modo coerente con quello che c'era stato mostrato prima. Quindi si fa sempre finta che fino a quel momento il protagonista, il personaggio in questione, si sia comportato in un determinato modo, ma che in realtà celava un io nascosto. Un qualcosa che magari teneva un po' da parte per non scoprire tutte le sue carte. Però questo è un gioco che non è tanto di mio gusto e soprattutto che dà mano libera allo scrittore, no? Che senza regole ti può da un giorno all'altro ribaltare tutto quanto. Ecco, queste sono state, secondo me, le note dolenti della lettura di questo secondo volume. Nonostante questo la lettura è molto intrattenente ancora ed è, secondo me, ben disegnata. Vi mostro qualcosa. Eccoci. L'ambientazione è comunque bella, a me piace parecchio. Eccoci. C'è un po' di fanservice in questo secondo volume. Se riesco da una parte a chiudere un occhio sul fanservice legato alla coppia tra il protagonista e la moglie, perché mi sembra contestualizzato, dall'altra invece quello che riguarda la figlia non riesco a farlo. Secondo me è un po' troppo, è oltre la soglia della mia sopportazione. Cioè, leggendo, sfogliando determinate pagine all'interno di questo secondo volume che riguardano la figlia del protagonista, secondo me, insomma, si è andati un po' oltre quello che almeno è il mio gusto. Però, a parte questa cosa, insomma, per il resto lo trovo abbastanza contestualizzato. Bene, questo quindi era Gannibal 2. Rimane una lettura piacevole, positiva, però, ecco, siamo su livelli completamente diversi rispetto alle speranze post lettura del primo numero. Eccoci qua quindi con Gannibal, il numero 2 di 13. Chiudiamo quindi con Ikari, passiamo a Flashbook. Anche per Flashbook ho letto un solo volume e si tratta di Il Kokuniki, il numero 3 di Tomoko Yamashita. Eccoci qua, vi mostro anche il retro. Eccoci, questa è una serie che viene pubblicata in Giappone su Phil Young di Shodensha, quindi è un Josei, è arrivato al settimo volume, forse anche ormai all'ottavo in Giappone. In Italia quindi siamo al terzo, dovrebbe uscire con cadenza bimestrale, se non erro. Quindi in sei mesi o poco più arriveremo quasi in pari con il Giappone, poi ci saranno un po' di attese. Non credo che Tomoko Yamashita abbia mai fatto delle opere molto lunghe, però potrei sbagliarmi. Quindi chissà, magari nei prossimi mesi avremo comunque delle notizie in più sulla conclusione di questo manga. Per il momento comunque Il Kokuniki è stato nominato al Taisho Manga World nel 2020 ed è una serie di cui vi ho parlato anche nella top novità di fine 2021. Infatti secondo me è un'ottima serie e anche questo terzo numero si conferma come tale. Infatti la protagonista, Asa, una ragazzina, inizia le superiori e come tanti fanno quando iniziano una nuova scuola tentano di ripartire da zero e si vuole ripartire con il piede giusto, quindi in modo tale da essere popolare, da non essere emarginati, farsi subito delle nuove amicizie e quindi tenta in tutti i modi di mettersi in mostra. Però un po' se ne pente ad un certo punto, perché per farlo dovrà compiere determinate azioni di cui poi appunto si pentirà. Ma il focus di questo terzo numero è nel rapporto e sul rapporto con la zia. Infatti ci sono delle incomprensioni tra le due. La zia, diciamo, era abituata a vivere da sola, a fare un po' quello che pareva lei, a non dover dar conto a un altro essere vivente, quando invece adesso non può comportarsi più in questo modo. E invece la protagonista è giustamente un po' immatura in alcuni aspetti e quindi questo mix crea delle scene tra il drammatico e il comico che sono veramente stupende, secondo me. In questo terzo volume I Kokunicchi si conferma una bellissima lettura, uno slice of life, ovviamente, una storia tranquilla, non dovete aspettarvi particolari sconvolgimenti. È una storia classica, ma secondo me realizzata in modo veramente ottimo. Un'altra cosa che volevo dire è all'interno di questo terzo volume si intravede per un attimo il padre di Asa. Secondo me ci sono tante cose ancora da raccontare sulla sua famiglia, su come erano i suoi genitori. Probabilmente si scoprirà qualcosa di più sul padre perché effettivamente sembra che sia morta solamente la madre e non il padre. Quindi ci deve essere qualcosa sotto che ci deve ancora essere raccontato. Bene, questo era quindi I Kokunicchi, il numero 3, unica opera colletto per Flashbook. E adesso passiamo a Goen. Anche per Goen ho letto solamente un volume. È un numero 1 e si tratta della Corte dei Centodemoni, volume 1 di Ichiko Ima. Questo è l'esordio per Ichiko Ima in Italia e l'esordio anche per questa serie che è composta da circa 30 volumi in Giappone, pubblicata da 1995, quindi circa un volume all'anno come velocità di pubblicazione in Giappone. Goen si è sopparcata questa pubblicazione veramente in modo inaspettato. Ha un prezzo anche abbastanza abbordabile. È infatti un 15x21. Vi mostro il confronto con ad esempio I Kokunicchi o anche Gannibal. Eccoci qua, molto più grande. 6,50€. Una sovraccopertina in carta perlata, se si dice così, meravigliosa secondo me. E poi delle bellissime pagine a colori iniziali. E poi all'interno del volume ci sono anche tante note. Alcune volte è un po' difficile da leggere, ma comunque ci sono, quindi c'è anche cura in questi dettagli. E insomma, se uno è interessato a scoprire tantissimi aspetti della cultura giapponese, questa serie è veramente molto interessante. E infatti, di che cosa parla? Allora, intanto vi mostro qualche pagina. Eccoci qua. Questa era la pagina a colori iniziali. Allora, La Corte dei Cento Demoni è una raccolta, possiamo dire così, di storie autoconclusive. Seguono però tutto lo stesso filone. Tutte legate al folklore, all'occulto, alla presenza di spiriti. E è un qualcosa che non mi ha mai incuriosito, non sono mai riuscito ad apprezzare il genere. Non riesco veramente a cogliere quale dovrebbe essere l'emozione che tenta di provocare nel lettore. La Corte può essere quel capolavoro che va oltre questi limiti, limiti del mio gusto? Allora, leggendo opinioni altrui, di chi magari l'aveva già letto in scan o in altri modi, pareva che potesse essere un capolavoro che andasse oltre tutti questi limiti, tutti questi confini che io alla fine mi autoimpongo in un certo modo. E invece, purtroppo, devo dire che mi sono scontrato di nuovo con il mio gusto. Non sono riuscito ad apprezzare particolarmente questo primo volume. Non è certamente una lettura di puro intrattenimento, anche perché è un manga che va letto dedicando il giusto tempo con profonda attenzione, anche perché ci sono dei momenti in cui sembra un po' sconnesso il racconto. È come se ci fosse una sequenzialità un po' frammentata. E quindi il livello di attenzione deve essere veramente altissimo. Mi è capitato più volte di dover tornare indietro. E sinceramente io mi sono convinto che, a parte alcune volte dove effettivamente mi ero perso qualcosa, altre volte invece è proprio un po' colpa dell'autrice, oppure della traduzione, chi lo sa, perché purtroppo noi non leggiamo in lingua originale. Quindi c'è qualcosa che non mi quadri in questa lettura. Non so a chi dare le colpe, se all'adattamento, alla traduzione o all'autrice Aichiko Ima, però effettivamente è una lettura che necessita di un livello di attenzione molto alto. Ma torno al discorso di prima. Va bene, non c'è alcun problema. Quell'attenzione io la dono a questa lettura e perché sono interessato, voglio leggerla appunto senza che sia una lettura usa e getta. Ci dedico del tempo, però qui mi deve restituire qualcosa. E il mio gusto mi dice, ma cos'è che mi dovrebbe restituire una lettura di questo genere? Oppure che riflessione dovrebbe scaturire in me? Ecco, io con una sincera onestà vi dico che non lo capisco. Torniamo però sempre al mio gusto, cioè non è una questione solamente della colpa dei cento demoni. Mi è già capitato in passato con altre storie sempre legate al folklore o agli spiriti, demoni e tutto quanto il resto. Ecco, io non lo capisco. Lo stile non rientra tra i miei preferiti, a causa del grande uso dei retini e anche di alcune fisicità che non mi convincono chissà quanto. Al netto di tutto questo però penso che il comparto grafico sia un punto positivo di questo manga e non un difetto. Ci sono pochissime voci fuori campo, tanti dialoghi, che però non zavorano più di tanto la lettura, secondo me. Il risultato, sì, richiede un buon livello d'attenzione, ma è comunque scorrevole. E da questo punto di vista devo dire che mi è piaciuto molto. Sicuramente è una bella lettura, quello riesco un po' ad intuirlo, ma semplicemente non fa al caso mio. L'ultimo racconto è stato decisamente il più interessante, secondo me. Troviamo quella anche una spruzzata di commedia, ma devo dire che non mi ha convinto più di tanto perché preferivo una storia perennemente drammatica e basta senza prendersi delle pause, ecco. Quindi alla fine della corte dei cento demoni non mi ha convinto, non proseguirò questa lettura, mi dovrei sforzare parecchio per proseguirla, però mi rendo conto che sia una serie interessante, una serie che merita attenzione, e quindi se siete interessati all'argomento dovete secondo me dare una possibilità a quest'opera, a quest'autrice e poi anche a questa edizione da parte di Goen che non è veramente niente male. Passiamo ora a Casa J-Pop. Ho letto due volumi per J-Pop, il primo è Free Arianne, oltre alla fine del viaggio, il numero 2. Eccoci qua. Allora, questa è una serie pubblicata da Shogakukan su Shonen Sunday, eccoci qua. È quindi uno shonen, è stato anche vincitore del Manga Teish Award nel 2021, è anche nominato, oppure vincitore adesso non ricordo più, all'Osamo Tezuka Cultural Prize, come New Creator, nella sezione New Creator. E allora, cosa vi posso dire della lettura di questo secondo volume? Allora, avete presente tutta quella gente che gridava al miracolo quando era stato annunciato da J-Pop quest'opera? Ecco, bene, alla fine della fiera, in questo secondo volume, si torna purtroppo a una storia fantasy molto classica. Dopo la lettura del primo numero vi avevo raccontato quali potevano essere le due strade percorribili per Free Arianne. Una era la storia classica, se vogliamo banale, di un fantasy, mentre l'altra era quella di una storia che avesse poco a che vedere con l'avventura fantasy e molto di più invece con i sentimenti e con le riflessioni su quanto può essere fragile una vita e quanto sia solamente un battito di ciglia in mezzo a un'epopea, un periodo storico che è decisamente molto molto più lungo e va oltre la vita di una singola persona. Ecco, purtroppo, purtroppo, c'era una scelta interessante, la seconda, e una scelta invece molto meno interessante che era la prima. Con la lettura del solo primo volume non potevamo dire quale sarebbe stata poi la scelta dello scrittore di Kaneito Yamada, con invece questo secondo numero sembra tutto abbastanza più chiaro. E purtroppo è la scelta peggiore in assoluto. Quindi, diavvolgiamo il nastro. Torniamo a quando J-pop ha annunciato questa serie in una live. Torniamo al successo, alla gioia, al tribudio, a tutte quelle opinioni che dicevano che Firenze sarebbe stata una lettura sconvolgente, una lettura, una vera novità, qualcosa che avrebbe stravolto il manga classico perché partiva da presupposti opposti, cioè raccontarci qual è la storia di alcuni eroi, dopo però che avevano già compiuto tutte le loro grandiose azioni, no? Quindi eravamo già alla fine del loro viaggio e partivamo da lì per andare avanti. Sì, è vero, quell'incipit era effettivamente molto interessante, molto curioso, ma se quell'incipit era solamente un modo per shiftare, per traslare il vero inizio del manga, allora non avrebbe aggiunto poi in realtà niente a tutte le altre opere di avventura fantasy che abbiamo già letto in tutti questi anni. E alla fine è stato esattamente così. Infatti in questo secondo volume cosa ci ritroviamo a leggere? Ovviamente siamo in un'avventura fantasy, la protagonista è già accompagnata da un'altra ragazzina, da diciamo una sua apprendista e come all'inizio di tutte le avventure si deve creare una squadra e quindi buona parte di questo secondo volume ha l'obiettivo di presentarci un terzo componente della squadra. Quindi siamo tornati esattamente a un punto di partenza classicissimo. Quindi quando si parlava di Fierien come portatore di novità, ecco alla fine quella novità si è fermata a pochi capitoli del primo volume e basta. Questa è stata una delusione coccente però devo anche dirvi che tolto questo, cioè è ingiusto giudicare un'opera sulla base del rumore social che hanno fatto gli altri. Sarebbe ingiusto nei confronti di questa lettura. Quindi tolto tutto questo discorso tento di analizzare, di capire, di raccontarvi quali sono state le mie sensazioni durante questa lettura e vi posso dire che comunque è intrattenente anche questo Fierien. È disegnato in modo piuttosto anonimo però riesce quantomeno a creare una bella ambientazione in una specie di mondo medievale fantasy e quindi almeno da questo punto di vista è carino anche se profondamente anonimo e poi per il resto si lascia leggere con estema tranquillità, è molto scorrevole, l'edizione secondo me è molto bella, ci sono anche delle pagine a colori in mezzo al volume. Classica, diciamo, edizione J-pop con una bella sovracopertina, non troppo plasticosa come quelle che non piacciono a me, quindi assolutamente una cosa di piacevole e per il resto io vado alla continua ricerca in questo volume e anche probabilmente nei successivi se deciderò di andare avanti, il terzo sicuramente lo leggerò, vado continuamente alla ricerca di quei piccoli momenti a Marcord dove la protagonista si deve un po' scontrare col fatto che tutti gli altri suoi compagni o quasi tutti sono ormai passati a miglior vita perché non erano degli elfi come lei e quindi hanno una durata della propria vita molto più ridotta rispetto a Fieren. Quindi alla fine non è una lettura che io boccio, non è una lettura negativa, è comunque una lettura piacevole, però per il resto non porta nessuna novità e mi sa proprio che si tornerà a un'avventura classicissima dove si metterà da parte, dove non troveremo in alcun modo tutti quegli spunti di riflessioni che potevamo invece forse immaginare, augurarci dopo la lettura della Sinossi o dell'Incipio o dei primissimi capitoli. Ecco, questo è stato Fierenne il numero 2. Bene, passiamo ora a, sempre con J-Pop, Ai giorni della sposa è il numero 13 di Kaoru Mori. Eccoci qua, finalmente sono riuscito a leggere questo tredicesimo volume per questa serie che è un capolavoro, è qualcosa di incredibile, esce una volta ogni 100 anni, ma è sempre estremamente piacevole e soprattutto disegnato in modo pazzesco da Kaoru Mori. Eccoci qua. Ovviamente questo è un seinen pubblicato da Interbrain sulla rivista Arta, che in realtà è una rivista che contiene non proprio manga per un pubblico maschile, ma un po' un mix. E all'interno dei giorni della sposa numero 13 troviamo innanzitutto la storia delle due gemelle che troviamo anche in copertina, che sono veramente molto simpatiche, se vogliamo un po' troppo esagerate, un po' troppo da manga, però è stata bellissima la chiusura che Kaoru Mori ha dato ai capitoli che riguardavano proprio le due gemelle. Poi dopo si torna invece al racconto del viaggio di Smith ed è bellissimo perché si intreccia in modo meraviglioso anche con la storia e con i russi che man mano stanno guadagnando terreno in quelle zone dell'Asia minore e che quindi mettono in difficoltà Smith e i suoi accompagnatori perché non possono, diciamo, muoversi in estrema libertà tra un paese e l'altro, tra un villaggio e l'altro. Negli extra di Kaoru Mori, a fine volume troviamo anche diciamo un piccolissimo spoiler per i prossimi numeri, cioè torneranno Carluc e Amira e io non vedo l'ora perché alla fine sono loro, almeno erano loro i protagonisti principali dei giorni della sposa, poi man mano Kaoru Mori invece si è concentrata anche su tutto il resto della costellazione che ci aveva presentato nei primi capitoli. Ecco, nonostante questa storia sia molto frammentata, nonostante Kaoru Mori abbia un po' preso delle direzioni non molto centrate, ha sviato più volte, non vediamo la fine di quest'opera, ecco, nonostante tutto questo i giorni della sposa è assolutamente un capolavoro a mio parere e questo era il tredicesimo volume, non vedo l'ora di leggere il quattordicesimo. Bene, abbiamo concluso qui con J-pop, passiamo ora a Star Comics, ho letto per Star Comics tre opere, tre volumi e partiamo probabilmente dall'opera più famosa in assoluto cioè One Piece il numero 99 in questa Celebration Edition ovviamente Ichiro Oda, ovviamente Shonen Jump e Shuesha. Allora, cosa vi posso dire? Innanzitutto questo 99esimo volume contiene un omaggio, un messaggio di ringraziamento da parte di Ichiro Oda che avevo letto un po' di mesi fa quando era stato pubblicato anche in Giappone e infatti questo 99esimo volume contiene il millesimo capitolo e quindi per l'occasione Ichiro Oda ha dedicato un messaggio a tutti i lettori e i fan di One Piece. Allora, ci stiamo avvicinando al grande scontro con Kaido e con Big Mom. Ecco, purtroppo qual è secondo me il grande difetto? è che lo attendiamo sempre tantissimo lo scontro finale. Ci sono sempre degli ostacoli, ci sono sempre delle corse infinite di Rufy che tenta di arrivare al nemico di turno e lo rincorre, lo rincorre e qualcuno si frappone e allora un suo compagno gli va in aiuto in modo tale da poter mandare avanti Rufy eccetera eccetera. Quindi è sempre molto lento l'avvicinamento anche perché ci sono tantissimi personaggi da portare avanti e quindi ognuno ha bisogno di almeno una manciata di pagine per poterci far capire dove è finito e contro chi dovrà lottare però alla fine arriviamo allo scontro e un po' mi affievolisco no? Quindi mi gaso mi gaso mi gaso poi arrivo allo scontro e un po' mi perdo mi diciamo tutta quell'empatia tutto quel quel furore un po' si perde. Detto questo ecco i tanti scontri che fanno un po' da corollario sono secondo me brevi e non molto significativi perché appunto hanno pochissime vignette a disposizione pochissime pagine e quindi iniziano e si concludono alla velocità della luce e non riesco sinceramente ad apprezzare nulla di questo aspetto invece nella terrazza cioè nel punto più in alto dove sta avvenendo il grande scontro con Kaido ecco lì invece Ichiro decide di dedicare molto più tempo molta più attenzione e quindi è tutto molto più molto più interessante molto più seguibile anche ecco nonostante tutto questo One Piece numero 99 a me è piaciuto non vedo non vedo l'ora di proseguire c'è un finale incredibile un'immagine stupenda a cui devo dare effettivamente una spiegazione perché io ho un'idea ma non ha alcun senso e quindi non vedo l'ora di leggere il centesimo volume che dovrebbe uscire a fine marzo durante il comic con ad aprile insomma circa lì in realtà la versione normale è già stata annunciata sul sito Star Comics ma mancano i dettagli invece del resto di quello che vogliono preparare per il numero 100 e sicuramente qualcosa bollerà in pentola eccoci qui quindi con One Piece il numero 99 Celebration Edition bene vado avanti con Marshall il libro secondo Muscles Edition eccolo qua allora vi mostro anche il retro eccoci allora cosa vi posso dire di Marshall anche questo è pubblicato da Shouesha su Shonen Jump è arrivato circa al decimo volume in Giappone da noi invece siamo appunto al secondo a gennaio dovrebbe essere uscito anche il terzo volume che ancora non possiedo allora veramente come avevo già raccontato non avevo non nutrivo alcuna speranza in questo titolo volevo solamente farmi un'opinione con il primo volume e invece incredibilmente mi ha convinto nonostante sia una scopiazzatura continua infinita verso tantissimi altri brand alla fine è stata una lettura assolutamente piacevole che non si è mai presa sul serio e quindi come tale va giudicata e è una lettura sì forse usaggetta sì da cesso però è divertente è stupidissimamente divertente e mi ha convinto anche con questo secondo numero ecco noi siamo abituati a un protagonista che è un po' un po' dimesso forse è un po' buono forse troppo ecco come può essere che ne so Naruto può essere Rufy appunto insomma nei grandi classiconi di solito i protagonisti sono così e invece qua abbiamo un protagonista che è spaccone un protagonista che non si pone limiti e che è convinto al 100% delle proprie doti con questo un po' richiama come già vi ho raccontato Saitama in One Punch Man all'interno di questo secondo volume capiamo anche meglio un po' come funzionano le monete e poi anche troviamo una marea di combattimenti tutti stupidi ma divertenti e una cosa un po' particolare è il fatto che il protagonista incontra subito un antagonista ma alla fine questo agonismo si perde subito perché il combattimento viene subito sparato da Ajime Komoto insomma l'autore di Marshall ce lo mostra subito il combattimento si raggiunge subito una conclusione e si passa subito dopo all'antagonista successivo e così quindi è abbastanza veloce come ritmo gli antagonisti vengono subito rimpiazzati da altri forse più forti e poi devo dirvi che un altro punto di forza di questo di questo manga è che lo stile ormai non riesco non posso più immaginarlo in altro modo nonostante sia effettivamente pieno diciamo di difetti nel senso classico del termine se uno volesse giudicare com'è il disegno di quest'opera però alla fine calza pennello con il contenuto è veramente perfetta e quindi io lo ritengo già adesso dopo il secondo numero insostituibile ecco quindi maschile numero due mi ha convinto ancora una volta e probabilmente andrò avanti non so se reggerò se a lunga mi stancherò come tante volte mi capita con letture di questo tipo di questo genere però alla fine per ora è stata una veramente un'ottima sorpresa ecco bene passiamo ora a fratelli nello spazio quindi dopo due shonen torniamo ai seinen con fratelli nello spazio numero 38 edito in giappone da kodansha su morning allora e questa è una serie che ha avuto numerose nomination a vari premi vi mostro anche sotto la sovracopertina che è semplicemente lo stesso disegno in blu e senza l'effetto traslucido ecco qua come si può sempre apprezzare in queste bellissime copertine dei fratelli nello spazio allora il numero 38 è abbastanza particolare vi dicevo dei premi innanzitutto cioè il shogakukan manga award nella categoria generale nel 2011 poi poco dopo vinse anche il kodansha manga award sempre nella categoria generale nel 2012 e poi anche il losamutezuka cultural prize nel 2014 nella categoria reader award allora non ci sono chissà quali grandi sorprese in questo trentottesimo numero la prima parte è come se fosse un enigma da risolvere quindi pian piano dobbiamo capire tutte le difficoltà che riscontrano i nostri protagonisti anzi in realtà non tanto loro ma chi li sta supportando dalla terra devono risolvere questo enigma e pian piano ci avviciniamo alla conclusione però in modo abbastanza lento e questa prima parte è sicuramente abbastanza lenta ma secondo me è perfetta per quello che ci deve raccontare perché altrimenti come riusciamo a capire le difficoltà del sostenere i nostri protagonisti che per ora sono abbandonati lì sulla luna ecco è per questo che io ritengo questa prima parte necessaria pur con la sua lentezza anzi soprattutto con quella lentezza lì altrimenti non avrebbe avuto senso ecco dopo la soluzione di questo grande enigma il racconto poi si srotola e arriva fino alla fine con tutto il racconto delle preoccupazioni di multa e anche del suo compagno con cui si ritrova sulla luna e anche il sostegno che loro due ricevono dalla terra ecco forse la seconda parte è un filino drammatico sentimentale ma secondo me è stata forse la parte migliore e che ci pone sempre più vicini ad una conclusione che insomma vogliamo assolutamente leggere almeno una conclusione riguardante questi avvenimenti poi se Chuyo Koyama deciderà di andare di raccontarci ancora qualcos'altro vabbè lo leggerevo secondo me con estremo piacere o almeno chi è arrivato fin qui secondo me non si tenerà mai indietro tutti gli altri invece ci avranno già abbandonato e secondo me si stanno perdendo un bellissimo manga ma di questo abbiamo già parlato spesso anche su questo canale bene chiudiamo qui con Star Comics e passiamo adesso a Dinit per Dinit ho letto il volume unico molto ciccione molto molto grande come volume ed è Zig contro ogni terrore eccolo qua allora ai disegni troviamo Tetsuya Saruwatari alla storia invece Takashi Nagasaki allora Takashi Nagasaki lo conosciamo per la sua collaborazione stretta con No Kurosawa sia in Monster sia in 20th Century Boys sia in Billy Butt quindi c'è stato un profondo legame tra questi due attori e alla fine c'è ancora e inoltre Takashi Nagasaki lo abbiamo conosciuto in Italia anche per King of Eden pubblicato da noi da Star Comics in 6 volumi dove lui è alla storia e un autore coreano invece è ai disegni e inoltre recentemente sempre Star Comics ci sta portando Rasputin disegnato da Junji Ito dove appunto collabora anche Takashi Nagasaki mentre per quanto riguarda Tetsuya Saruwatari è un autore di cui abbiamo già parlato anche nei videoacquisti che abbiamo già conosciuto in Italia grazie a Planet e anche grazie a J-Pop insomma alcune delle sue opere sono Lock Up Gokusai Tuff eccetera eccetera e allora sapevo un po' cosa stavo andando incontro questo innanzitutto è un volume unico lo ripeto 12,90€ per Dinit in questo formato 15x21 avevo delle aspettative abbastanza basse ma ero comunque incuriosito perché Saruwatari ha uno stile inconfondibile che non sempre apprezzo al 100% qui forse non l'ho trovato al suo meglio ma è anche vero che è passato tanto tempo da quando ho letto Gokusai e Lock Up e quindi è un po' difficile fare un paragone dovrei rileggere anche quelle opere per dirvi diciamo qual è il Saruwatari migliore dal punto di vista visivo però secondo me qui non siamo al suo massimo ma inoltre avevo delle aspettative basse perché insomma questo è a tutti gli effetti un action e so già che potrebbe non essere di mio gusto e inoltre conosco solitamente anche che tipo di manga pubblica Saruwatari e quindi so che siamo un po' fuori da il mio gusto ecco effettivamente è stato è stato così cioè zig contro ogni terrore è pieno di mascolinità è pieno di so forte io so figo io ti faccio vedere io sono furbo io però tutto questo alla fine durante la lettura incredibilmente non è stato così tanto eccessivo non mi ha dato la nausea ecco e devo dirvi che è anche un buon finale quindi è vero effettivamente non è pienamente di mio gusto ma comunque è stata una lettura piacevole mi è piaciuto soprattutto tutto il legame di azione e reazione che continuiamo a leggere durante queste oltre 200 pagine di fumetto cioè ad ogni azione corrisponde una reazione e questo legame mi è sempre sembrato logico e non è per niente scontata questa cosa l'incipit però è il più grande difetto di questa opera perché è forzato è poco realistico mentre tutto il resto partendo da quel presupposto lo trovo sensato ecco ci sono anche tutta una serie di pagine dedicate alle armi non è proprio questo quello che sto intendendo però ci sono proprio dei dettagli dove Saruvatari si sofferma su tutto l'armamento che viene sfruttato all'interno di quest'opera ed è particolare interessante è una cosa che avevo già visto nel Gekiga soprattutto in Baron Yoshimoto però insomma è qualcosa che quindi già si era visto ma recentemente insomma non mi era capitato con autori recenti e non che mi interessi neanche chissà quanto però è un dettaglio in più che riguarda quest'opera ecco una cosa che mi mette un po' in difficoltà qual è? lo stesso incipit e poi anche ciò che si legge all'interno dell'opera può strizzare l'occhio ad una certa propaganda che è contraria alla costituzione pacifista giapponese cioè può effettivamente strizzare l'occhio a tutti quelli che tentano di voler cambiare la costituzione in modo tale da poter anche militarizzare di nuovo l'esercito giapponese quindi zig contro ogni terrore strizza effettivamente l'occhio verso questo sentimento nazionalista e guerra fondaio e questo un po' mi mette in difficoltà ed è se vogliamo il punto cruciale delle prime pagine o comunque delle motivazioni che che spingono il protagonista a comportarsi in un determinato modo e questo è un po' brutto da leggere ecco ma detto questo che comunque cela un giudizio secondo me che non può essere slegato anche da un punto di vista politico che è assolutamente personale e che quindi potrebbe assolutamente piacere invece ad altri lettori ecco tolta questa cosa il resto può essere letto tranquillamente come un'opera di puro e solo intrattenimento ecco è un volume corposo è un'edizione in linea con tutti gli altri 15x21 che ultimamente sta pubblicando Odinit e molto spesso si legge in modo molto veloce anche perché ci sono pochi dialoghi vi mostro intanto un po' del disegno di Saru Watari eccoci insomma ero titubante alla fine della lettura vi posso dire che avevo ragione di esserlo però alla fine è stata comunque una lettura che dopo averlo comprato insomma non mi sono pentito di aver fatto assolutamente bene arriviamo invece adesso alla conclusione e si tratta dei primi 4 volumi di 6 della l'antenna di Nyx di Kent Akama eccoci qua quindi questo è il numero 1 il numero 2 il numero 3 e il numero 4 eccoci qua questo è il sequel dell'ultimo volo della farfalla sempre pubblicato da Odinit però nella collana showcase diciamo classica in 17x24 quindi in un formato più grande la lantena di Nyx è pubblicato invece da Lid in Giappone su Comic Run ed è un seinen sono 6 volumi anche in questo caso abbastanza corposi si arriva anche a 230 240 pagine a volume ed è un'opera che nel 2020 ha vinto il Grand Prix all'Osamutezuka Cultural Prize bene ecco all'inizio potrebbe sembrare un'opera un po' episodica cioè ogni episodio è incentrato su un oggetto dell'epoca di qual'epoca sto parlando sto parlando della fine del diciamo della seconda parte dell'800 del XIX secolo all'incirca siamo nel 1879 come periodo e ogni capitolo è incentrato su un oggetto diverso dell'epoca ecco è un'ambientazione secondo me meravigliosa benissimo disegnata da Kentakama una una Tokyo totalmente diversa da quella che possiamo immaginare adesso contemporanea ovviamente ci sono tutti degli aneddoti ultra interessanti su questi strumenti su questi oggetti dell'epoca sulla storia di alcune persone che sono realmente esistite ed è da un'altra parte anche un manga di formazione dove questa giovane protagonista entra a far parte di una bottega che vende degli oggetti che noi potremmo adesso considerare di antiquariato ecco della più varia specie e in questa bottega riesce a trovare un po' il senso della sua vita riesce a rendersi utile incredibilmente quando lei si è sentita sempre inutile e riesce a anche ad appassionarsi allo studio impara a leggere a scrivere impara anche un po' l'inglese e quindi è un manga di formazione in questo senso per la protagonista principale ma intorno a lei ci sono anche tantissimi altri personaggi incredibili alcune volte anche ispirati a vere persone persone realmente esistite e poi lo stile di kentakama è meraviglioso ed è riconoscibilissimo e è un piacere per gli occhi sinceramente come anche tutte le sue pagine a colori eccoci ed è inoltre una lettura che è sì drammatica in un certo senso ma non è così tanto eccessivamente drammatica come l'ultimo volo della farfalla che era bellissimo ma era un classico manga dà mai una gioia mentre nell'alterna di nix non è assolutamente questo il sentimento che trasmette c'è un bellissimo mix tra commedia e anche dramma è una storia anche sentimentale se vogliamo perché questa protagonista si innamora di qualcuno per la prima volta nella sua vita forse lei non si sente ancora una donna una ragazza e molti non la trattano come una donna non la vedono soprattutto come una donna ma ancora come una bambina insomma c'è anche tutto questo altro filone del racconto che secondo me è veramente molto interessante ci sono pochissimi capitoli pochissimi che rendono evidente il collegamento con l'ultimo volo della farfalla ma so che tantissime persone stanno leggendo o hanno letto la lanterna di nix senza neanche sapere di questo collegamento ecco vi posso dire che si può leggere tranquillamente la lanterna di nix senza aver letto l'ultimo volo della farfalla ci sono dei dettagli che effettivamente si perdono ci sono alcune pagine che non si capiscono che non si possono capire a mio parere senza aver letto l'ultimo volo della farfalla ma in generale la storia è comunque una storia a sé stante semplicemente alcuni dei personaggi che intravediamo leggendo l'ultimo volo della farfalla ne conosciamo tantissimi aspetti e anche alcune frasi che si dicono i personaggi hanno un senso solamente se si è letto anche l'ultimo volo della farfalla ma sono comunque personaggi se vogliamo secondari che ruotano intorno ai personaggi principali e quindi non è effettivamente necessario al 100% aver letto l'altra opera ecco questi volumi sono anche pieni di note ultra interessanti sono bellissimi anche i i talk potremmo chiamarli così disegnati e scusate raccontati da kentakama eccoci qua che troviamo tra un capitolo e l'altro dove ci racconta appunto un sacco di anedoti un sacco di cose interessanti bellissime le pagine a colori che si trovano ogni tanto anche all'interno del volume vediamo qua se avevo lasciato magari un segno eccoci qua infatti ogni tanto troviamo quindi delle pagine a colori eccoci devo dire che sono bellissime almeno a me piace molto lo stile di kentakama sono arrivato a 4 volumi su 6 sicuramente adesso proseguirò fino alla fine e per il momento come immaginavo quest'opera è un'opera meravigliosa stupenda che io consiglio altamente se non siete magari convinti perché ovviamente costa costa parecchio potete provare comunque con l'ultimo volo della farfalla che costa sempre parecchio ma almeno un volume unico come vi ho già raccontato appunto è un un gusto diverso un retrogusto diverso quello quel volume ma comunque vi può far apprezzare kentakama come autrice e darvi un po' la spinta decisiva per proseguire con la scoperta con la sua scoperta ecco bene bellissimo la lanterra dei nix non vedo l'ora di arrivare alla fine di scoprire che cosa ci vuole raccontare ancora negli ultimi due volumi anche perché ci sarebbe in realtà un mondo da poter esplorare potrebbe essere tranquillamente un manga da 20 numeri perché c'è tantissimo veramente da poter sviscerare però alla fine si è concluso col sesto volume e quindi sicuramente kentakama avrà fatto delle scelte chissà chissà se farà dei flash forward se andrà avanti dei time skip in avanti ecco vediamo 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 quel che sarà sono estremamente curioso per gli ultimi due volumi fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste letture anche della lanterra dei nix avete già letto il finale ovviamente non mi fate spoiler però insomma ditemi che cosa che cosa ne pensate mi dispiace molto per la corta dei cento demoni perché perché è una lettura che secondo me vale tantissimo ma semplicemente non riesco ad andare oltre i limiti del mio gusto che non riescono a farmi apprezzare tutte queste storie legate alla tradizione del folklore giapponese ecco non ce la faccio proprio è più forte di me è un vero peccato mi manca proprio la chiave di lettura cioè che cosa devo provare durante quella lettura non scaturisce in me nessuna riflessione non 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 mi emoziona in modo particolare perché non è che sia fortemente drammatico fortemente anche magari patetico ecco non lo è non è una commedia quindi non è divertente è comunque un manga che si prende abbastanza seriamente e mi manca mi manca qualcosa cosa che invece trovo in altre opere come ad esempio anche Marshall con la sua con la sua stupidità infinita oppure con la lanterna di Nix con tutte queste cose interessanti legate ad avvenimenti storici o a personaggi storici o a oggetti realmente utilizzati nella seconda parte del XIX secolo e insomma tutto questo è secondo me estremamente più interessante ma questo è effettivamente il mio gusto personale bene fatemi sapere voi quindi che cosa ne pensate ci vediamo in una prossima puntata o in un prossimo video sempre qui su Fumetterino Nair a presto grazie a tutti